Ciao Andrea, che ne dici di presentarti? Sono Andrea Losi E che lavoro fai? Faccio l'agente immobiliare, faccio questo lavoro ormai da quasi 20 anni ho iniziato nel comune di Monza e poi da 4 anni mi sono trasferito in quel di Padova Il tuo ruolo all'interno dell'ufficio è quello di consulenza immobiliare, cioè sei agente, giusto? Esattamente, quindi seguo il cliente sostanzialmente dalla A alla Z sia dal processo di acquisizione fino all'atto notario di limita finale Come hai deciso di entrare nel mondo della consulenza? È stata una casualità oppure, non so, l'avevi pensata, avevi capito che poteva interessarti sin da subito? No, è stato un caso, ho iniziato praticamente da giovanissimo che avevo 19 anni e poi ho iniziato un po' ad appassionarmi, ho seguito un percorso fino ad oggi Nel futuro come ti vedi? Sempre all'interno del mondo immobiliare? Assolutamente sì, ovviamente si va sempre un po' alla ricerca di nuovi metodi sia operativi sia di marketing e tutto quanto anche perché negli ultimi 20 anni il sistema di comunicazione è cambiato molto quindi rimanere comunque insomma aggiornati fa parte anche del lavoro di tutti i giorni Aggettivi che ti definiscono? Trasparente, empatico e solerte Hai altre passioni? Oltre al lavoro fai qualcos'altro? Assolutamente sì, fa parte della mia vita ormai arrampicata che faccio ormai da oltre 10 anni Bene, quindi dovrai organizzare un team building in una parete attrezzata Ci direi Esattamente, sarà un piacere Hai un desiderio? Sì, mi ricollego a quello che ho detto prima è quello di trovare sempre nuovi metodi operativi anche per insomma riuscire ad offrire ai clienti un servizio sempre migliore Andrea, la parte dura dell'intervista è finita Puoi fare un saluto? Sì, saluto tutti coloro che in questi ultimi 5-6 anni mi hanno sostenuto e hanno creduto in me stesso Bene, ciao 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 Ciao